ciao a tutti da me e da pomettino molto bene andiamo subito al peschereccio e a scoprire chi sarà chi sarà chi sarà ho in mano questo fogliettino che ci dirà sembra avere un nome lungo con la D forse chi è che c'è con la D no no non ci credo no De Laila è uscita De Laila finalmente ok tutte le volte ho detto ma ho messo il fogliettino ma le c'è ma le c'è non c'è c'è non c'è De Laila quella bellissima sciccherina una delle mie prefe no vabbè no vabbè sono emozionata adesso la andiamo a prendere la vado a prendere guardiamo tutti i suoi colorini oh si festeggia pomettino si festeggia già ed ecco qui questa meraviglia di bambola vicino a pomettino lei non è verde ma è una delle mie preferite comunque c'è guardate che meraviglia che meraviglia e finalmente ho l'onore di fare qualcosa per lei perché la signorina non voleva uscire a parte gli scherzi wow come possiamo vedere lei di colori ne veramente pochi al giallo il bianco e l'oro ok e poi basta 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 qua c'è un po' di bellantini ma comunque pensavo di utilizzare il giallo quello scintillante quello perlato quindi top e soprattutto lei non ha un giallo strong lei è un giallo un po' pastelloso quindi lo dovrò schiarire dovrò fare un mischiotto ma ne vediamo dopo quindi bianco giallo e oro questi sono i colori di questa sciccherina che è troppo è troppo è tutta bionda anche perché comunque i capelli sono giallini cioè e sono chiari quindi sarà tutta chiara lei è un giallo un biondo chiarissimo quindi è tutta 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 così bella tutta così bella potrei stare qua a guardarla infatti nella nello scaffale è una di quelle che si vedono perché è troppo troppo bella allora lo zenzino chi mi ha ispirato è lui guardate che carino io ho fatto agli occhi nel fiocchio il fiocco bianco ok ce l'ho fatta e praticamente come vi dicevo prima ho fatto io i pigmenti cioè non è già ho mescolato i pigmenti per farli io perché lei ha il giallino super chiaro ok dei capelli e ho fatto questo quindi la glassa sarà così e invece il corpo sarà così ok un po più giallino poi la resina dietro lascerò bianca ok e per fare questi colori qua semplicemente usato questi due per uno ho utilizzato meno giallo e più bianco e per l'altro utilizzato più giallo e bianco cioè avete capito comunque solamente per fare queste due tonalità ho usato questi due in quantità diverse molto bene quindi adesso direi di partire dalla glassa e vedere come esce ok ok ho sozzato incredibilmente ma non fa niente perché comunque adesso ci vado a mettere sopra questo quindi dovrebbe coprire però guardate come luccica prima vi dicevo che aveva il glitter sulle margherite ma guardate qua altri glitter guardate che sciccheri adesso andiamo a fare il tutto 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 con questo e vediamo un po ok sembra quasi più bianco quindi non lo so dobbiamo vedere con calma allora eccolo qui vi dirò che non ho la più palida idea se lasciare la resina bianca o se metterci un titin in di questo qua ma penso di metterci leggerissimamente ma proprio leggerissimamente perché ho paura che questa parte qua sia troppo chiara non lo so non lo so un titinino che poi non si vedrà nemmeno ma così giusto per togliermi lo sfizio lo metto quindi adesso preparo la resina mettendo questo qua che ho appena messo sul corpo e poi la versiamo ok allora c'è stato un cambio di programma avevo ancora qualche goccina di resina poliuretanica e pensavo di riuscire a fare un altro zenzio ovvero questo invece no solamente che la resina è coordinato in questo momento non mi è ancora arrivata quindi essendo che lo zenzino qua è già pronto per essere colato sono andata a prendere la resina normale ho messo dentro due goccine di bianco e un pochino di questo pighimento qua che vi ho detto prima perché sennò questo zenzino qua doveva stare qua così fino a dato da stabilirsi quindi sarà fatto con la resina e possidica a posto di quella poliuretanica quindi dovrò aspettare non 20 minuti ma un giorno per finire questo zenzino però va bene anche così dai un esperimento in più c'è un esperimento un po più di tempo un po più di tempo questa come ben sappiamo rimarrà di questo colore salvo cose strane e bon cosa vi devo dire cosa vi devo dire l'importante è finire questo zenzino adesso per voi non cambia un bel niente perché per voi no invece devo aspettare di più di più di più di più ma che bel colorino che è uscito però posso fare anche questa cosa qui sta molto bene allora la resina ha fatto il suo dovere sembra strano vedere uno zenzino e vedere da dentro di solito è tutto completamente pari pari il colore invece qui è così molto bene direi subito di scoprirvi il colore molto molto carino ma noi siamo qui per il davanti come sarà uscito questo zenzino non c'è niente sullo stampo top 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 dice, e lei ha rosso, porcaccia, quindi un po' solo così, però dai ci sta perché il suo rossetto è super rosso, quindi top, però facciamo finta di niente, guardatelo, quasi levati tutti, ma è proprio proprio bello, allora, secondo me dietro ci voleva un po' il bianco, per far risaltare un po' di più i colori, però questo è giallino e questo è biondo, uno zanzi biondo, quindi top, adesso sto cercando di levare queste cose, non ho nient'altro da passarci sopra qui vicino, comunque molto molto carino, adesso direi di abbassare un po' l'inquadratura e fargli i dettagli, qui ho preparato il bianco, il nero, l'oro e il fucsia, quindi dettagli, subito subito, partiamo con la bocca, non ho capito se ho preso la pallina piccola o la pallina grossa, penso piccola, ok, aspettate, molto bene, adesso facciamo le sopracciglia qui, allora, ci voleva il pirulo qua un po' più piccolino, ma non ce l'ho, ce la farò colorare queste sopracciglia, per cazzo, molto bene, guardate qui che carino, questo è un po' più grosso, quindi cerchiamo di aumentare leggermente anche questa, molto bene, adesso le guance, allora, una, molto bene, e facciamo anche l'altra, ok, io ho tirato fuori il bianco, effettivamente non è che ci sia molto bianco, se non il fiocco, intanto adesso vi faccio qui l'oro, perché era l'unico colore che mancava, molto molto bene, questo asciugherà tra una settimana praticamente, sì, ce la farò, più o meno, too much color, too much color, facciamo così, allora, io le ho fatte i dettagli e tutto, facciamo che, adesso vedo se fargli qualcosa, oppure se lasciarlo così, e ve lo faccio vedere, finito, finito, lucidato e slimazzato, vicino a Delilah, ma è proprio, proprio carino, proprio, proprio carino, molto bene, ed ecco tornata qua, Delilah, vicino a Pomettino, ok, quindi che cosa ho fatto, sì, ho fatto proprio due robine in più, e adesso ve le faccio vedere, bam, guardate che scicchierino, cucchierino, ho fatto con un giallo, però schierendolo con il bianco, quindi facendolo un po' più chiaro queste parti qua, e con il bianco queste parti qui, poi l'ho lucidato, li sono limazzato, ed eccolo qui, vediamolo vicino a lei, devo dire che ci sta veramente molto molto bene, la parte dei capelli si avvicina molto, e anche questa, probabilmente se avessi usato un po' più di giallo, se avessi messo detto il bianco, magari risultava di più, non lo so, però mi ritengo veramente molto 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 soddisfatta, ecco guardate, i piruli che ho fatto qua si abitano molto alle scarpe, top top top, finalmente il zenzino, il zenzino di Delilah, sei soddisfatto Pomettino, ti piace? meno male, meno male, meno male, poi è tutto così luccicoso, perché ho sposato lo stand, adesso c'è il momento agendina, allora, allora, Delilah, deve essere forse in prima pagina, Delilah, senza buttare giù Pomettino, sì, e finalmente, e finalmente facciamo l'ultima X, ma non l'ultimo colore, su questa pagina, in zenzino, vediamo, praticamente parlando di questa pagina, mancherebbe solamente lo zenzino di Sunny 2, e poi manca ancora qualche resina, però, oh, non vedo l'ora di completarne almeno una, così, molto bene, quindi, io vi ricordo, Instagram, link Amazon e Patreon, giù nell'info box per chi volesse supportare me Pomettino, grazie, grazie mille, e grazie mille a Martina che è abbonata, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo zenzino, molto molto bene, Pomettino, direi che è giunto il momento di salutare, bravo, e niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini, ciao ciao ciao!